Siamo alla Valle dei Fiori e vi voglio presentare grandi offerte sia a radici nude come queste o anche tutti i frutti nei sacchietti, nei basi di almeno 1500 tipi diversi che potete mettere nel vostro giardino. Vi ricordo che la Valle dei Fiori è sempre aperta anche a festivi e pre-festivi.